Sono Emiliano Fasano, sono il segretario generale di Asifa Italia, l'associazione degli animatori e collaboro con Cartoon Club per i laboratori, con le giurie e soprattutto sabato sera organizzerò all'interno di Cartoon Club l'Aperitun. Aperitun incontra Cartoon Club per la serata di premiazione ma in realtà una storia già antica, nel senso che è nato da un paio d'anni, da un'idea mia condivisa con animatori, artisti, filmmaker italiani che si ritrovavano al Festival di Ansi in Francia e avevano la necessità in qualche modo di parlarsi, comunicarsi e raccontarsi qual era lo stato dell'arte dell'animazione italiana. Rimini ha ospitato Aperitun già lo scorso anno in una serata molto suggestiva al Castello Sismondo, quest'anno sarà ancora più suggestiva perché sarà ospitata dal Cinema Fulgor, il cinema amato da Fellini dove nel 1924 Fellini vide il primo Maciste sullo schermo. Allora, tra gli ospiti della serata, di questa sera di Aperitun, naturalmente tutti i premiati del Festival ma anche Sio, Cleuso, Francesco Filippi, Valentina Mazzola, insomma il meglio dell'animazione presente questa sera a Cartoon Club. Aperitun è sempre un evento gratuito, partecipano film maker, animatori, produttori, broadcaster, tutte le persone che girano intorno al mondo dell'animazione ed è un appuntamento sia di networking sia per vedere e ascoltare persone che hanno voglia di parlare e far vedere i loro lavori sul palco.